Mettiamo un attimo da parte i tutorial su Git per rispondere ad un commento di Fabio Baraniello, che mi chiede un video su come si crea un software con una GUI. Ovviamente in un solo video non è possibile fare un tutorial dettagliato, ma vediamo a grandi linee quali scelte ci sono da fare. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Prima di tutto, dobbiamo scegliere un framework. Ce ne sono davvero tanti, ma i principali sono GTK, framework usato per tutte le app dei desktop GNOME, MATICS, FCE e Pantheon, perci torno alcuni. Sebbene gli sviluppatori GTK pubblicizzino questo framework come cross-platform, di fatto portare un'app GTK su un sistema operativo diverso da Linux o comunque diverso da uno Unix-like, tipo Windows oppure Mac OS, non è propriamente facile. E anche se ci riuscissimo, un'applicazione GTK su cui i sistemi operativi avrebbe un look troppo alieno. Un grosso vantaggio di GTK, invece, è che esistono bindings per praticamente tutti i linguaggi di programmazione, C e Rust compresi. Personalmente non ho esperienza nella realizzazione di un software GTK, quindi non ho idea di come sia da programmare. Passiamo a Qt, un framework nativo C++ ma con bindings a diversi linguaggi di programmazione, tra i quali consiglio Python. Le applicazioni iscritte con il framework Qt sono davvero tante, a parte quelle dai desktop LXDE e LXQT, ma anche i lettori video VLC o anche OBS Studio per citare qualche esempio. A differenza di GTK, Qt è veramente close platform e le applicazioni Qt si sentono a proprio agio su qualsiasi sistema operativo. Il framework Qt è veramente completo e ben progettato, tanto da rendere tollerabile addirittura la programmazione in C++, anche se, come detto poc'anzi, consiglio Python. Un altro framework meno conosciuto di GTK e Qt è WXWidgets, che è un altro framework scritto in C++ ma con binding per diversi linguaggi di programmazione, tra cui sempre Python. Esempi di applicazioni iscritte con WXWidgets sono l'editor audio Audacity ed il calente FTP Filezilla. Proprio come Qt, anche WXWidgets è Crotops Platform, ma a differenza di Qt, dove i vari widgets vengono disegnati da Qt utilizzando un tema che imita quello nativo, WXWidgets usa nativamente i widgets di ogni piattaforma e su Linux questo si traduce nel fatto che usa i widget di GTK. Pur rimanendo un framework di tutto rispetto, personalmente trovo che Qt sia più piacevole da programmare rispetto a WXWidgets, abbia meno bug ed i tool di sviluppo molto più evoluti. Di questi tre framework, quindi, la mia scelta è proprio Qt e come linguaggio di programmazione sceglierai Python. Fabio aveva citato anche la libreria TKInter per Python, ma purtroppo non ho nessuna esperienza con TKInter. Un altro approccio possibile per un'applicazione grafica è quello di Electron, che ti permette di pacchettizzare un'applicazione web. Quindi, a differenza dei tre framework citati in precedenza, non hai molta scelta sul linguaggio di programmazione da utilizzare. Essendo una web app, il linguaggio utilizzato è JavaScript, quindi o usi JavaScript o un linguaggio che compila in JavaScript, tipo CoffeeScript o TypeScript. Hai il vantaggio però che puoi scegliere tra le miriadi di tecnologie web disponibili, tipo React, Angular, Vue, Svelte e chi più ne ha più ne metta. Lo svantaggio è che per far girare una web app, di fatto, pacchettizzi un intero browser, quindi avrai applicazioni molto pesanti sia in termini di spazio su disco che di ramo utilizzata. Esempi di applicazioni Electron sono l'editor VSX, i client desktop di WhatsApp, Telegram e Discord. Ok, abbiamo scelto il framework Qt, e ora? Ora dobbiamo scegliere se usare Qt Widgets oppure Qt Quick. Qt Widgets è il framework utilizzato per le applicazioni GUI tradizionali, mentre Qt Quick è un'interfaccia molto dinamica ed animata per fare applicazioni con un'interfaccia stile smartphone o tablet. Personalmente ho esperienza solo con Qt Widgets, quindi potrei dire un'inesattezza, però esiste un tool grafico chiamato Qt Designer che permette di disegnare un'interfaccia utente che utilizza Qt Widgets in maniera molto simile a quanto accade sotto Windows con Visual Studio. Mentre invece per quanto riguarda Qt Quick, mi sembra che per creare un'interfaccia devi utilizzare un linguaggio scritto ad hoc chiamato QML. Vista la mia inesperienza con Qt Quick, prendiamo Qt Widgets come tecnologia per questo esempio. Bene, abbiamo detto di utilizzare Python come linguaggio di programmazione. Abbiamo due bindings per Python, che sono PyQt e PySide, conosciuto anche col nome di Qt for Python. PyQt è in giro da più tempo ed offre dei bindings molto completi. L'unico difetto, che per alcuni potrebbe essere un vantaggio invece, è che è distribuito con licenza GPL. Questo significa che se tu scrivi un'applicazione usando PyQt, devi distribuire il tuo software usando la licenza GPL. Se invece non vuoi dare in giro i sorgenti del tuo programma, allora sei costretto a scegliere PySide, che è un progetto ufficialmente supportato da The Qt Company e rilasciato con licenza LGPL, il che significa che puoi rilasciare il tuo programma con la licenza che più preferisci. Se sei indeciso su quale scegliere, allora c'è una terza opzione, che si chiama QtPy, che ti permette di scegliere a runtime se usare PyQt oppure PySide. In questo caso non hai problemi di licenza, in quanto è rilasciato sotto licenza MIT. Attenzione! Non sono un avvocato, quindi non ho idea di cosa succede se usi QtPy per scrivere il tuo programma e poi in runtime scegliere di utilizzare PyQt. Ottimo! Mettiamoci al lavoro e disegniamo una semplice finestra con un bottone usando QtDesigner. Il bello di QtDesigner è che puoi disegnare la totalità dell'interfaccia in modalità completamente grafica, proprio come con Visual Studio. Ma qui, visto che stiamo usando Qt, avremo un'applicazione multiplattaforma. QtDesigner genera un file con estensione .ui e se andiamo a vedere il suo contenuto, vediamo che si tratta di un semplice file XML. Ma noi stiamo usando Python, quindi come facciamo ad utilizzare quel file XML nella nostra applicazione? Esistono due metodi. Il primo consiste nell'utilizzare il tool a rete grande comando PyWeek, che prende il file XML generato da QtDesigner e crea un file Python, che come puoi vedere contiene tutto il codice per generare la finestra e dei vari widget contenuti in essa. Lo svantaggio di questo approccio, però, è che se fai delle modifiche all'interfaccia con QtDesigner, ti devi sempre ricordare di eseguire PyWeek per generare nuovamente il file Python. Il secondo metodo consiste invece nell'utilizzare direttamente il file .ui nel nostro programma. Come puoi vedere da questo listato, nelle linee da 14 e 17 non faccio altro che caricare il file provaqt.ui e dirgli di generare tutto al momento. A questo punto, nella linea 19, gli dico semplicemente che funziona chiamare quando il bottone viene cliccato. Più semplice di così. Tra l'altro, questo è l'intero listato di quello che serve per eseguire una semplice applicazione Python che usa Qt. E infatti, andiamo ora a eseguire proprio questo file. Come vedi, gira alla perfezione. Ringrazio ancora Fabio Baraniello per avermi dato l'idea per questo video. E se anche tu hai una curiosità riguardo a Linux, programmazione o retrocomputing con DOS e vorresti che ne parli in un video, scrivimelo nei commenti qua sotto. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Alla prossima video. Ciao! Tipo Reang. Ah, sì, ciao. Gli dico semplicemente che funziona chiamare quando viene il bottone.